Benvenuto o benvenuta nel percorso Cataclime. In questo video voglio spiegarti come è nato Cataclime e dove ti potrà portare e i principi che lo muovono. In questa maniera tu avrai una visione più completa di quello che andrai a fare, che ovviamente anche se avrà risultati tangibili e immediati ovviamente non potrà darti la visione del tuo percorso che ho io. Quindi cercherò di trasferirtela con questo video e poi successivamente anche durante le lezioni. Però intanto così ti preparo psicologicamente a quello che andremo a fare. Allora partiamo dal fatto che l'arrampicata non è assolutamente una disciplina facile per un semplice motivo che è uno sport veramente ad alto rischio. Quindi saremo noi, il mio compito sarà quello di renderla facile attraverso questo percorso che ti porterà a mettere in pratica tutti gli strumenti che io ho acquisito nei miei dieci anni di di agonismo a livello nazionale e due anni di livello internazionale. I miei trent'anni di insegnamento con tutte ovviamente le persone, tutti i miei allievi che hanno ottenuto la loro indipendenza dal punto di vista arrampicatorio e non. La cosa più importante che devi riuscire a sapere e quindi conoscere di me è che io ho iniziato ad arrampicare molto gradualmente partendo da una condizione di profonda paura dell'altezza e molto disagio sociale. Quindi diciamo era una persona molto sensibile quindi avevo paura di affacciarmi dai balconi, paura di prendere l'ascensore e paura di non essere accettato dagli altri e quindi credo anche la motivazione per cui io ho fatto tante gare è tutto il mio sforzo per farmi tra virgolette accettare della società. Ma tutto questo insieme all'insegnamento mi hanno portato a cercare di comprendere profondamente le motivazioni e gli strumenti necessari affinché le persone potessero muoversi su una parete verticale e soprattutto sentirsi al loro agio divertendosi mentre facevano quello che era la loro passione. Questo ovviamente io con le gare di per sé non l'avevo imparato ovviamente perché io ero legato diciamo ai vecchi schemi che solo attraverso il risultato io mi potevo divertire ma non è così e non era così perché comunque parli con qualsiasi atleta c'ha una pressione, quello dicevo prima, una pressione sociale ancora più alta, più sei alto di gradatoria e più hai una pressione sociale più alta e quindi è più difficile essere disinvolti nel diciamo nella manifestazione. Vabbè ma quindi tornando a bomba diciamo i principi cardine quindi che mi hanno, che hanno diciamo che che governano Cataclime, quindi questo sistema di dati che utilizzerò per portarti a sviluppare la tua consapevolezza del movimento e anche della gestione emotiva e sensoriale riguardano tre punti fondamentali che sono primo da risolvere è la sicurezza, seconda cosa da risolvere è il miglioramento e la terza cosa da risolvere è appunto il divertimento, quindi riuscire a risolvere contemporaneamente e contestualmente in ogni tua azione queste tre fasi, step che devono coesistere insieme. Allora andiamo a parlare prima appunto della sicurezza. La sicurezza di per sé non esiste, non esiste una sicurezza oggettiva, quello che noi possiamo, sul quale noi possiamo lavorare è la percezione della sicurezza. Cos'è che ti dà la percezione della sicurezza? È il livello di paura. Cos'è la paura? Allora ci sono due grandi paure che noi affronteremo fin dalla prima lezione, perché come ho detto io dovremmo essere contestuali e coerenti, tutte quante le sfere dovranno agire nello stessa maniera. La prima paura è quella di non sentirsi in grado di poter affrontare la situazione, quindi non avere gli strumenti di gestione delle emozioni, delle sensazioni, del corpo in maniera tale da poter riuscire a generare delle azioni sicure, quindi che noi abbiamo in controllo. Per questo il metodo Cataclimb andrà ad analizzare ogni singolo segmento e farà in modo che tu sia capace non solo di riconoscere, quindi di analizzare ogni tuo singolo segmento, ma dai i comandi giusti per poter espletare, quindi poterti muovere con tranquillità in ogni situazione. Questo perché? Perché non basta sapere cosa devi fare, ma devi saperlo gestire, quindi i comandi corretti, ok? Perché? Perché la paura è legata all'istinto, che vuol dire ogni volta che tu provi paura scatta l'istinto. Ma che vuol dire quando tu provi paura? Tu provi paura fondamentalmente quando ti mancano delle informazioni, quindi il momento che ti manca un'informazione interviene l'istinto e metterà in atto dei movimenti, dei condizionamenti passati dei comportamenti che non gestirai più tu e che nel caso dell'arrampicata sono settati sul piano orizzontale e quindi ti faranno cadere. Attraverso l'arrampicata noi impareremo a svincolarci dall'istinto, quindi a decidere quando è da dare retta all'istinto o quando no. Questo non vuol dire di azzerare la paura, ovviamente, perché la paura fondamentalmente non è altro che, diciamo, uno strumento che veicola l'attenzione sulle priorità. Quindi nel momento in cui tu non sai quali sono le priorità e non sai come agire, interviene l'istinto e il vecchio condizionamento, che ripeto che nel caso dell'arrampicata non funziona perché il settaggio dell'istinto è sul piano orizzontale e noi saremo sul verticale e quindi non sarà opportuno. E quindi cadrai. Ed ecco qui la seconda paura, la riprova sociale. La riprova sociale vuol dire non sentirsi abbastanza, diciamo, non sentirsi in agio, non sentirsi adatti nella condizione, è appunto la paura del fallimento. La paura del fallimento si può tradurre semplicemente nella caduta. Quindi tu avrai paura non solo di cadere per farti male, ma avrai anche paura di cadere perché questo ti porterà al fallimento. in cada climb, prima cosa imparerai a cadere e quindi a non farti male, seconda cosa imparerai a riconoscere l'errore che ti ha portato alla caduta e quindi tu trasformerai la caduta in miglioramento. Quindi da una cosa negativa la trasformerai in positiva. Questo come tutti i top al mondo. Per riuscire a tentare vie al momento non possibili abbiamo bisogno ovviamente di provarle. Per provarle incorreremo sicuramente in errori. L'errore non è altro che una mancanza di informazione. Noi faremo altro da quell'errore andare a cogliere un'informazione in più che ci porterà verso appunto la risoluzione del problema e quindi della via che dovremmo riuscire a fare. Quindi se tu riesci a sentirti sicuro perché se cadi non ti fai male e anzi dalla caduta riesci ad arrivare a migliorarti, ecco lì che viene il terzo. Cioè inizi a divertirti e quindi inizi ad appassionarti a questo nuovo gioco. Ovviamente senza questi criteri di fondo ti ripeto l'arrampicata sarà sicuramente il tuo peggior nemico. Perché? Perché se tu non gestisci gradualmente frammentando tutte le tue azioni, queste tre cose ti porterà sicuramente prima a sentirti sempre meno abile, poi ovviamente ti abbasserà la tua stima e poi ti farà lasciare questa attività. La prossima lezione riguarda l'equilibrio e come impostare le basi del conosci te stesso e sviluppa tutta la tua conoscenza in base a chi sei. Alla prossima!